E poi vi dispenso dalla consueta stretta in mano. No, no, licenziamento una o un po'. Facendo da Luigi Mazzacua, licenziamento una o un po'. Signora Marlade c'era un po', ma tu non sapete cosa rispetti? Come faccio? Io prego, padre, non per ogni cosa. Come faccio rispetti, signora? Ma non esce. Grazie, padre, che mediante il sacramento del battesimo ci hai innestato in Cristo vera vite e ci hai fatti membri del tuo corpo che è la Chiesa. Tu, pastore eterno, doni al popolo cristiano per le mani dei tuoi ministri i tesori inestimabili del Vangelo e dell'Eucaristia, pulco di ogni educazione comunitaria. Va che alla scuola del tuo figlio cresciamo in comunione di fede, smelanze e carità per divenire il lievito che fermenta tutta la realtà umana. Benedici questi luoghi al servizio della barrocchia di San Gaetano Catanoso e rendili punto di riferimento e di incontro fra i vicini e i lontani, centro promotore di ogni generoso sbrancio verso la città degli uomini. Aiutaci a portare in ogni ambiente e situazione di vita la forza rinnovatrice del tuo spirito. Raduna gli uomini lagerati e dispersi nell'unica famiglia pacificata nel tuo amore. Grazie. 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 Grazie.